Siamo in San Giorgio La Molara, nella provincia di Benevento, dove producono le marsicane ortice extra virgin olive oil di Romeo Caraccio. Andiamo! Allora, andiamo a visitare l'olive tree farm. Guarda che oliva! Guarda che bellissima! Tutti bellissimi e verde. E tu prendi questo tipo di verde, certo? Sono tutte verde, certo? Sì. Quasi tutte. Quasi tutte verde. Siamo dicendo che si prende l'olive, tutto verde, con solo un po' di nero. E' da questo motivo si rende molto piccola produzione. Ma l'olio è incredibile, pieno di anti-oxidine. Guarda che perrano, guarda. Guarda. Bello. Guarda, bello. Guarda che qui è il tuo figlio. Guarda? Guarda. Guarda che ho avuto in questoimento. Guarda qui ho due anni fa. Sono venuto con Romeo per circa 30 settori. Guarda! Guarda che ho avuto le fatture di romeo. Guarda che ho avuto prima di un po' di novembre. Guarda che ho avuto nel mio figlio. Guarda che ho avuto prima! Andate a me, la parola del mio figlio, è bello. quindi nel medio di ottobre è pronto per farviare queste olive, ok? Ora, fa un'olive molto top extravirgino, l'olive è molto forte, quindi non è per tutti, ma se ti piace veramente un'olive forte, allora Romeo fa il migliore! Ora guardami, avete un belno di chiule, in questi buoni vengen. Guardate bene, arp contento, voi molte, guardate il belilo alorsio e il tavone. Guardate ilreci dell'altra tavone�olino, guardate allora. E poi c'è Agada cucina, grounds per il penne all'ue È presente? Guardate l'elamo prevede, guardate l'aprone. Si? Agatha Romeo e poi il prosciutto e la soprassata e poi la pancetta una pancetta pancetta rotulata e la soprassata da questa area Romeo per l'olive sfruttante di ottobre Salute! Ben arrivati a San Giorgio la Molara alle marsicane Come profondo il pozzo Oh! 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 Oh!